È duro l'affondo dell'On. Luciano D'Alfonso nei confronti della Giunta Marsilio in merito alla gestione dei fondi del PNRR da destinare alla tratta ferroviaria Roma-Pescara. Per D'Alfonso l'opera avrebbe richiesto coinvolgimento e dedizione. Al contrario, la Regione Abruzzo dovrà rinunciare a 1 miliardo 465 milioni, che corrisponde al totale dei fondi tagliati. Meno 845 milioni a giugno, meno 620 milioni a luglio con la recente revisione del piano di ripresa e resilienza. A fronte di questo il Presidente in scadenza della Regione, della Regione Abruzzo, ci ha donato due conferenze stampa. Una per intero tipica ad Avezzano, dove ha messo in imbarazzo gli ingegneri di RFI e ha messo anche in imbarazzo coloro i quali volevano capire quale potesse essere la giustificazione. E poi un'altra specie di sceneggiata, San Giovanni Tiatino, dove ha parlato di una possibile prospettiva dell'interramento. Io vorrei raccontare a Marsiglio di non fare più la mosca sulle infrastrutture, di mettersi a lavorare, di utilizzare i poteri dell'articolo 117 della Carta Costituzionale, che consentono e consegnano alla Regione di stabilire i tracciati. I tracciati concordati con le popolazioni consentono di fare le opere velocemente, di raccogliere i pareri concordatamente. Invece in Abruzzo si è scelta la strada di fare safari contro i territori e adesso si perdono i fondi. E io sono, per riconoscere, parte lesa di questo straordinario incendio di 1 miliardo 465 milioni di euro. Parte lesa è il governo Conte, che aveva voluto l'opera, aveva previsto un commissario con procedure straordinarie. E parte lesa Draghi, e parte lesa anche il governo Meloni, perché era scontato che la Regione dovesse collaborare. Invece da estraneo si è collocato fuori soltanto ogni giorno, ogni tanto, a generare o un comunicato stampa o una conferenza stampa. Non è vero che i soldi persi del PNRR vengono recuperati senza danno e senza sanguinamento, attingendo dal salvadanaio FSC. Noi avevamo due salvadanai. Uno adesso si è rotto ed è andato in fumo. E adesso utilizziamo l'altro salvadanaio, che invece andava canalizzato per altri problemi della Regione. I comuni, le imprese, la sicurezza dei territori, il nostro sistema scolastico, serviranno da questo momento 6 miliardi e 305 milioni di euro per fare la ferroviarizzazione Pescara-Roma. Io gli chiedo di cominciare a metterci un po' di lavoro, un po' di collaborazione, facendo in modo che i territori siano coinvolti e anche convergenti.